mentre la nostra è una visione soprattutto negativa e critica di ciò che è la città. La città e la strada per noi rappresentano tutto, direi, perché comunque noi viviamo la maggior parte del nostro tempo per strada e tutte le ispirazioni, come anche c'è qui Dario, che è un nostro amico, che è un rapper, la maggior parte delle ispirazioni per i ragazzi provengono dalla strada. E non lo so, tu potresti anche, in qualche modo, potresti decantare un piccolo pezzo di un brano? Ma anche se volevo... Anche io con quel pezzo di prima, un pezzettino, vi presento Dario Sigillo, che è un nostro caro amico, che è una pezza, che è presente da un po' sulla scena napoletana e niente, vi lascio a lui. Salve, allora volevo prima dire una cosa, noi non è che viviamo, noi sopravviviamo sfortunatamente, perché è una questione di sopravvivenza, non è Napoli, parecchi giovani cercano di cambiare strada, cambiare città, allontanarsi, anche se comunque è difficilissimo lasciare tutto, diciamo, dal cuore, alle idee, alla mente, alla famiglia, tante cose, quindi tutto ciò ci porta a restare a Napoli, a darci dei pizzichi sulla pancia per far sì che, sperando che le cose cambino, e noi ci mettiamo il nostro, cioè cerchiamo di tramandare, di parlare alle persone attraverso questa ritmica che è la musica rap, che si basa su composizioni in rima, su quattro quarti, quindi adesso sarà un po' difficile per me, appunto, interpretare il brano senza musica a cappella, diciamo, però è giusto per far rendere conto anche a voi stessi di cosa si tratta e di come la pensiamo, e come diceva Davide, il mio amico, c'è una visione negativa delle cose qui a Napoli, da parte nostra, almeno. Quindi, niente, vorrei iniziare, appunto, con questa piccola strofetta, che in pratica iniziava dicendo che le cose vede, il mio esame di crime, ma non si vede in dei film, scena western, solo con l'assassino e il sango paciente, 30 cavalle, gente che si chiede superman, con un supermario, e un parlamento, un momento, ha diventato dormitorio, tu giuro, in modo che non sono sicuro, se gli soldati, e se io volevo cremare un'amela che non sai, e se la dama te ne vittorando, come la dama, te l'hai domandato mai, ha riuscito un male, chi se l'ha cresciuto, o bene ha raffornato, i tati non hanno imputato chi ne è lotto, peccato, ha dato la bottiglia di giudacito, è nata una tua creatura, ma nessuno l'ha voluto, l'anima di una nonna se ne è volata troppo ampressa, per me se non cessa, che ha capo appilato, per piazza di coca, un cliente mancato, ma tanto per loro e roba poca, per tramite una corda sette sate, giorni ci ha lasciato, rin dall'occhio a fuoco, l'ata pava salata, per l'ata carne rifusa, accusa che è capitata a te, ma tutte le cercate, pava la usata, accattata, mezza numercata, ma, ovvero facita, vedete che avete sbagliato la vita, non vi sono munita, scendita coppia e nuvole, ci siamo capiti, creature sfruttate, fotografate le vecchie pervertite, che appavano a piserore, femmine deperite a dieta fissa, fissata, vanno femmissi, ma sono buoni solo pobroni, una mora nata, tra tante loro, tra figli puttana e figli papà, tra figli nessuno e figli più persone, tra traffico illegale e traffico a stazione, per me essere disoccupata che fanno nata manifestazione, è nata, non creatura, è nata, disoccupata organizzata, è nata, è già teno assicurata un futuro, spera che abbia salato. Grazie a Dario per la sua performance, come ci si gerisce qui la signora. E niente, penso che più o meno quello che avevamo da dire, anche minimamente l'abbiamo detto, per noi è stata la prima volta che ci presentiamo, cercando di dare al nostro movimento una visione un pochino più seria, non essere definita solamente cultura giovanile, ma comunque dare anche un valore al tutto, ed è quello che noi cerchiamo di fare quotidianamente. Quindi lascio la parola a Claudio, che è stato davvero gentile. Grazie. 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 Grazie a tutti.